La cantante statunitense posta su Instagram uno scatto drammatico.Come tutti ben sanno Romina povera è una donna attiva sui suoi profili social La cantante statunitense, infatti, spesso posta delle foto e video del suo quotidiano, ma anche massaggi di denuncia Da qualche giorno l'ex moglie di Albano Carrisi è tornata negli Stati Uniti dopo aver realizzato un concerto a Zurigo E nella sua terra d'origine ha dovuto affrontare una grossa emergenza? Ricordiamo che da diversi giorni numerosi incendi stanno devastando la California Una tragedia che ha distrutto migliaia di alberi, ma anche case e provocato morti Romina povera è il dramma, che ha colpito la California.In questi ultimi giorni Romina povera ha voluto manifestare la sua vicinanza attraverso dei post sul suo profilo Instagram La settimana scorsa ha pubblicato un straziante appello pregando Dio di far cessare le fiamme Mentre nella giornata di ieri la cantante statunitense ha postato una foto da brivido Nel dettaglio si vedono un gruppo di vigili del fuoco esausti e privi di forze sdraiati sul prato che si riposano L'ex moglie di Albano Carrisi ha mostrato a tutti il senso di dovere di questi uomini che ogni giorno rischiano la vita per salvare il prossimo Ecco lo scatto in questione postato su Instagram 2.Albano Carrisi a carta bianca, parla di Romina povera e Loredana Lecciso E mentre Romina povera si trova in America, Albano Carrisi un paio di giorni, fa è tornato in televisione per essere intervistato da Bianca Berlinger A carta bianca il cantautore di Cellino San Marco ha parlato delle due donne che ha amato Sia di Romina pover che di Loredana Lecciso ha parlato bene, affermando che con entrambe, è rimasto in ottimi rapporti Infine ha rivelato di essere felicemente single Adesso andate fai Grazie a tutti.